Cominciamo con Salvatore Francavilla. Dal lunedì prossimo la Confraternita del Suffragio, come di consueto ogni anno, propone la Settimana della Cultura, in linea con le finalità della Confraternita che vede nella diffusione della cultura uno dei suoi tre pilastri fondanti, oltre a fede e carità. La settimana, che quest'anno ricade anche nelle iniziative per celebrare i 400 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1618, è imperniata su temi della religione e della documentazione storica della Confraternita, nonché della musica classica che aprirà lunedì prossimo la settimana. Quindi ecco, la cultura che è uno dei nostri pilastri, dicevamo no, fede, carità e cultura, di fede è cosa nostra interiore, la carità non se ne parla, non se ne deve parlare, invece la cultura, ecco che la presentiamo così alla grande. Due appuntamenti svettano sugli altri per caratura culturale, uno venerdì 20 dal titolo 100 anni dall'inutile strage, titolo preso partendo dalla famosa frase di Papa Benedetto XV, che definì la prima guerra mondiale, appunto, l'inutile strage. Ed il secondo che tratterà delle donne presenti nella Bibbia, relatore d'eccezione Monsignor Giovanni Tonucci, già delegato pontificio della Santa Casa di Loreto. Allora, di quali donne tratterà nel suo intervento? Ma direi ogni donna che si presenta nel Vangelo, cominciando dalla prima che appare, che non è come noi vorremmo pensare Maria di Nazareth, ma è Elisabetta, che si presenta come la prima del Nuovo Testamento e anche l'ultima dell'Antico Testamento. E andando avanti, pagina dopo pagina, notando quante sono le donne e come sono importanti queste donne, che servono un pochino a sottolineare i vari passi dell'annuncio evangelico. E la prima persona ad annunciare la risurrezione di Gesù dopo della sua morte, quindi all'uomento in cui si celebra la Pasqua, è Maria di Magdala. Perché nel Vangelo ci sono anche queste persone che hanno vissuto una vita negativa, ma si convertono e danno esempio, direi molto confortante per ciascuno di noi, di un ritorno alla dignità umana, alla dignità femminile e alla vicinanza con il Signore.